Ed eccoci qui a fare il punto sul Gran Premio della Malesia. Chi pensava dopo Singapore di aver visto tutto e di più dell'assurdo si è dovuto ricredere perché effettivamente Sepanga ha fatto un'uscita di scena dopo 19 edizioni veramente clamorosa. Ci ha regalato la pioggia il venerdì quindi movimento, uscite e quant'altro ma i veri colpi di scena sono arrivati il sabato dopo delle prove libere in cui le Ferrari sono state fortissime e contrariamente alle previsioni le Mercedes erano molto molto staccate quindi i ferraristi esultavano che giustamente le rosse avevano una velocità che era incredibile. Il colpo di scena è stato il secondo posto di Raikkonen ma purtroppo il motore KO di Vettel per cui in fretta e furia i meccanici dopo le terze libere sono riusciti a sostituire la power riunita ma evidentemente qualcosa non è andato. Vettel è partito come sappiamo dall'ultima posizione in griglia che doveva essere la ventesima ma in realtà è diventata la diciannovesima perché all'ultimo momento la macchina di Raikkonen è stata spostata dalla seconda piazzola e quindi Lewis Hamilton è rimasto solo in prima fila ad affrontare questo gran premio. Cause mistero abbiamo sentito le dichiarazioni del portavoce Ferrari Alberto Antonini abbiamo sentito arriva bene ancora adesso nel momento in cui vi parliamo non si sa quale sia stato il vero motivo di questi due problemi se sia un unico problema su entrambe le vetture o qualcosa di diverso. Su tutto questo incombe ancora l'incognita cambio Vettel perché sappiamo cos'è successo alla fine. Intanto torniamo un attimo la gara. La gara è stata vinta da Max Verstappen che è salito sul podio con Lewis Hamilton e col compagno di squadra Daniel Ricciardo. Splendido il modo di festeggiare il compleanno per l'olandese che d'improvviso è passato per i tifosi dall'essere un delinquente dopo i fatti di Singapore che però secondo noi non lo vedevano assolutamente colpevole all'essere celebrato nuovamente come uno dei piloti con più manico sulla griglia. Max ha fatto una splendida gara bisogna anche dire aiutato da un Lewis Hamilton molto razionale e molto ragioniere. In questo abbiamo visto un Hamilton molto prost in quanto giustamente come lui stesso ha ammesso quando l'olandese ha tentato il sorpasso non ha fatto niente per complicargli la vita. Per lui era giustamente troppo importante in ottica campionato portare a casa dei punti importanti soprattutto sapendo che Vettel partiva ultimo e quindi non sapeva fin dove sarebbe riuscito ad arrivare. Vettel è arrivato ai piedi del podio quarto quindi un'ottima prestazione avrebbe voluto puntare al podio ci ha tentato in tutti i modi nelle ultime fasi ad attaccare Ricciardo poi si è trovato sulla strada Alonso e nelle prime dichiarazioni è stata scaricata un po' sullo spagnolo la responsabilità di questo mancato terzo gradino del podio. Secondo noi la cosa non esiste in quanto Vettel avrebbe potuto comunque ritentare Alonso non ha ostacolato in modo drammatico la situazione questo per quanto abbiamo visto noi. Si è cercato un po' un capro espiatorio ma chissà qual era il motivo. Il motivo potevano essere sicuramente le gomme in quanto Vettel ha montato le Super Soft nel ventitresimo giro e quindi è dovuto arrivare a 56 giri con le Super Soft. Temperature non erano altissime quindi le gomme hanno resistito oltre i 23 giri che aveva dato Pirelli inizialmente però chiaramente dovevano essere quasi alla fine oppure chissà. Problema di benzina? Noi abbiamo pensato anche questo perché effettivamente Vettel ha fatto il miglior tempo e poi ha conservato fieno in cascina portato a casa un importantissimo quarto posto. Tutto finito? No. Momento di panico tagliato il traguardo, fortunatamente tagliato il traguardo, il botto, il botto con Stroll. Inspiegabile. L'abbiamo visto, l'abbiamo rivisto. Tante sono le interpretazioni. Per Stroll Vettel l'ha affiancato come se fosse in gara e come se dovesse passarlo. Per Vettel invece è stato Stroll ad essere distratto e non vederlo fatto sta che abbiamo assistito al botto. Ai tifosi ferraristi è venuto l'ennesimo coccolone perché non si sapeva quando le immagini hanno inquadrato la Ferrari se Vettel avesse o meno passato il traguardo e quindi gli sarebbe veramente stata la beffa totale. Invece il quarto posto era sicuro, Ferrari distrutta, parcheggiata e poi abbiamo assistito a un qualcosa che noi ancora adesso non ci spieghiamo. Due cose su cui vi invitiamo a riflettere. Vettel scende dalla macchina, chiaramente distrutta, fa la procedura che deve fare, cioè stacca il volante, rimette il volante, poi passa la Sauber di Verlain, lui chiede un passaggio oppure come ha detto Crozza l'altra sera da Fazio, chiama il car to go, ritorna verso la Ferrari, prende il volante, lo carica sulla macchina di Verlain, dopodiché sale e Verlain lo riporta ai box. Perfetto tassista. Due cose non ci tornano. Per quale motivo Vettel non abbia lasciato il volante sulla monoposto come prescrive il regolamento e come non sia stato richiamato per il passaggio che si è fatto dare da Verlain. Ma lo stesso Verlain non sia stato richiamato, c'è un articolo del regolamento sportivo che proibisce questo genere di passaggi proprio per motivi di sicurezza. Ricorderete l'ultima volta fu quando Alonso nel 2013 a Singapore diede un passaggio a Mark Webber se non ricordiamo male. Lì addirittura Webber fu punito con un arretramento di 10 posizioni in griglia perché aveva altri richiami prima. Non è il caso di Vettel. Ma ci è sembrato comunque strano anche se la corsa era finita, anche se dietro di loro c'era la safety car. Resta il fatto che se ci sono motivi di sicurezza ci chiediamo come mai nessuno abbia mosso un dito per almeno dare una buon'aria sgridata ai due piloti. Comunque l'episodio fortunatamente dell'incidente con Stroll non ha avuto alcun seguito, i commissari non hanno infierito, non hanno punito, ritenuto responsabile nessuno dei due piloti dell'accaduto. Non sappiamo ancora se tutto questo però avrà una conseguenza sulla gara di Vettel in Giappone questo weekend. Qui non si capisce più niente perché si passa da Singapore alla Malesia adesso andiamo subito a Suzuka. Come sapete da venerdì si torna in pista perché nel botto potrebbe essersi danneggiato il cambio sulla SF70H di Vettel. In questo caso bisogna vedere se il cambio può essere sostituito senza alcuna penalità o se Vettel per la sostituzione del cambio sarà punito con dieci posizioni in meno in griglia. Insomma non un momento facile questo per la Ferrari, la responsabilità è tanta, nulla è perduto perché matematicamente il mondiale è ancora aperto, mancano cinque gare. Sono 34 i punti di vantaggio che ha Hamilton adesso sul diretto inseguitore, sul tedesco della Ferrari appunto. Vettel per essere certo di portare a casa il titolo dovrebbe vincerli tutti e cinque gli ultimi Gran Premi, indipendentemente da quale risultato faccia Hamilton. Impossibile? Può sembrare ma sulla carta come ci hanno dimostrato gli ultimi due Gran Premi nulla è impossibile. Quindi vediamo che cosa succederà a Suzuka, vediamo se la Ferrari ritroverà questa affidabilità misteriosamente scomparsa che ha fatto puntare il dito anche al presidente Marchionne, ha detto delle cose e vediamo. Quello che possiamo dire è che gli uomini e le donne di Maranello ce la stanno mettendo tutta, i tifosi sono chiaramente delusi e disperati ma non mollano, il campionato è aperto, è apertissimo. Quindi vediamo che cosa succede e continuiamo a guardare questi Gran Premi con una grande attenzione, non ci si può certo dire che quest'anno ci stiamo annoiando. Un peccato è dover salutare la Malesia perché comunque tra tutti gli impianti costruiti dall'architetto tedesco Hermann Tilke questo è decisamente il migliore. Un caldo e un umido che solo chi c'è stato può sapere che cosa significhi. Piloti davvero eroici nell'arrivare fino alla fine è una cosa veramente impossibile, però un gran bel circuito, un gran bel impianto. Ci ha lasciato perplessi il fatto che per 18 edizioni l'abbiamo visto vuoto e in questa probabilmente c'erano dei buttadri dentro perché le tribune erano pienissime, la gente entusiasta, bandiere e tutto, quindi gli organizzatori devono aver scelto di fare un'uscita alla grande riempiendo e facendo il tutto esaurito. Comunque noi speriamo che questo contratto si possa rinnovare e rivedere la Malesia perché ci sembra assurdo avere avuto proprio settimana scorsa il rinnovo per altri tre anni di un circuito come quello della Cina e non avere più in calendario Sepang in questo o in altri momenti della stagione. Ci mancherà, è bello e speriamo che torni. Momento della lettura. Pensiamo a un grande. Questa settimana fra l'altro siamo stati alla prima per la stampa del film 312b, l'abbiamo incontrato e quindi abbiamo pensato di consigliarvi di leggere questo libro di Mauro Forghieri scritto con Daniele Buzzonetti, 30 anni di Ferrari e oltre. Mauro Forghieri non ha bisogno di presentazioni, un grandissimo, che ha fatto tanto per la Ferrari e per le corse. Eppure stranamente, pensate, le corse non erano affatto la sua aspirazione iniziale. Potete andare alla libreria dell'automobile, guardate l'indirizzo internet e vi consigliamo assolutamente di leggerlo perché ne scoprirete delle belle. sulla vita, in pista e non solo, del grandissimo ingegner Forghieri che è sempre un piacere incontrare. Ciao a tutti e ci vediamo la prossima settimana dopo Suzuka vedendo che sorprese ci riserverà.